E' deceduto in poco tempo Alessandro Minardi, 57 anni, di Sant'Urso, rimasto coinvolto in un incidente stradale avvenuto oggi, intorno alle 13.30, nello spartitraffico tra via Campanella e la strada comunale del cimitero a Fano in zona Cotma. L'uomo, che era a bordo di una Yamaha T-Max 500, stava provenendo dalla rotatoria di via Galilei, quando all'altezza di via Giuseppe Baretti si è scontrato con un Audi A4 station wagon proveniente dal senso opposto. Secondo i rilievi eseguiti dai vigili urbani, il conducente dell'auto, un 26enne di Milano a Fano per lavoro, ha svoltato a sinistra non rispettando la segnaletica in questo tratto di strada tanto contestato negli ultimi anni ed è limitato da paletti a terra e due fioriere in cemento posizionate nel passo prima per evitare simili manovre. Purtroppo l'urto tra i due veicoli è stato violento e il 57enne ha centrato la fiancata laterale della vettura rimanendo incastrato nel finestrino con una parte superiore del corpo. I sanitari del 118, chiamati da una passante, vista la gravità del sinistro, avevano allertato l'eliambulanza che però, una volta arrivata sui cieli di Fano, è tornata indietro. Infatti i soccorritori, nonostante le manovre di rianimazione, ne hanno dovuto constatare il decesso. Minardi, meccanico di una ditta a calcinelli, appassionato di caccia, di cani, di motori e molto notte in città, lascia l'ex moglie e una figlia. Invece il conducente dell'Audi, in forte stato di sciocche, è stato trasportato all'ospedale Santa Croce. Sul posto due mezzi dei vigili del fuoco e tre pattuglie della polizia locale comandata da Narita Montagna. Il tratto di strada, interessato dall'incidente, è stato chiuso al traffico per permettere gli accertamenti e i rilievi di rito. Partita d'ufficio, la denuncia nei confronti del giovane per omicidio stradale.